Che la Bibbia non parla di Dio è un fatto divulgato in tempi recenti. Ne sono al corrente miliardi di persone, fra cui, atei, agnostici, buddhisti, taoisti, shintoisti, induisti, ecc. Di per sé basta la logica a provare che la Bibbia non parla di Dio. Oggi grazie a Mauro Biglino, famoso esperto di ebraico biblico a livello internazionale e traduttore di 17 libri della Bibbia pubblicati dalle Cattoliche Edizioni San Paolo e utilizzati all'Università, abbiamo un'ulteriore prova illuminante che alla voce, ebrei, nell'Enciclopedia Garzanti, 1977. Il professore Paolo De Benedetti, docente di Giudaismo alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, già constatava. Primo. La parola, teologia, è però ignota all'ebraismo. Secondo. L'ebraismo contemporaneo non ha teologi nel senso cristiano del termine, ma grandi pensatori religiosi. Questi due fatti appena espressi sono la riconferma che i teologi non si devono occupare di Bibbia. Nella Bibbia ci sono miti, cronache reali, tradizioni cosmogoniche e nazionali, poesie religiose ed epiche, leggi e codici rituali, ecc. La Bibbia conserva anche i titoli di altre opere andate perdute, come il Libro del Giusto e il Libro delle Guerre di Yahweh. Quando il Papa dice che fare guerra in nome di Dio è satanico, sta affermando che la Bibbia è satanica. La Bibbia loda le guerre criminali genocide ordinate dal pedo-assassino Yahweh al suo popolo. Contro altri popoli che avevano l'unica colpa di trovarsi in terre delle quali Yahweh voleva impadronirsi. Le religioni cristiane si nutrono della Bibbia. Se l'albero si riconosce dai frutti, allora la Bibbia è un albero del male. Se andate a vedere i video di tutte le chiese facenti capo ai vari cristianesimi, vedrete pastori, predicatori, evangelici, cattolici, cristiani che si maledicono, si insultano, si contraddicono, e si odiano, fra loro stessi. Il Libro di Mauro Biglino. La Bibbia non parla di Dio, 2016, è un best-seller degli Oscar Mondadori. Un libro di 340 pagine prestigioso e famoso. Nella quarta di copertina. La Sinossi riporta. Un libro spiazzante e clamoroso, frutto di uno studio attento. Se infatti si tolgono dalla Bibbia le interpretazioni metaforiche e teologiche, e si applica una lettura laica e letterale, ci si rende conto che essa non parla di Dio. Né di alcun che di divino. Ma di una storia tutta fisica che svela un'ipotesi sorprente sull'origine dell'essere umano, sulla Terra. La nota biografica sull'autore ci informa che Mauro Biglino è anche realizzatore di prodotti, multimediali storico-culturali e didattici e ha pubblicato numerosi volumi diffusi a livello internazionale. Il Libro di Mauro Biglino ha fatto nascere in me alcune riflessioni che voglio condividere. Innanzitutto, prima di parlare di Dio, occorre chiedersi chi è Dio. O cosa è Dio. La risposta non è univoca. Ognuno, ogni religione, fornirà una propria personale risposta. Non priva di fumosità, in contraddizione con quelle di altre religioni, o con se stessa. Un modo di pensare la divinità è attribuirle delle proprietà. Una proprietà spesso attribuita a Dio ma che Dio non può avere è la, onnipotenza. Se per assurdo Dio fosse onnipotente, Dio potrebbe dimostrare di non essere Dio. Quindi, chi crede in un Dio onnipotente, crede nel nulla. Credere in chi tutto può è credere in chi nulla può. La fede in un Dio onnipotente è la fede nel nulla. La forma più radicale di ateismo. I primi atei, sono quelli che credono in un Dio onnipotente. Perciò, se qualcuno ci domanda, credi in Dio? Già vi è un errore intrinseco. Quale Dio? Se ci viene risposto, il Dio onnipotente creatore dei Cieli e della Terra. Allora si può tranquillamente rispondere. Non credo in Dio poiché non credo a ciò che non esiste. Lo stesso concetto di creare viola un principio di base. Nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma. Principio già intuito da Nasagora di Clezomene e ripreso dalla voassia e dalla fisica. Un Dio che crea dal nulla ma attraverso se stesso è già una contraddizione. Un oggetto proviene dal nulla ma contemporaneamente proviene da Dio. Quindi non proviene dal nulla, a meno che, Dio sia il nulla. Anche immaginare un Dio interamente buono è errato. Basti pensare che nel mondo vi sono animali che per sopravvivere sono costretti ad uccidere altri animali. O Dio non è buono, se ha scelto di costringere animali ad uccidere altri animali, o non ha saputo fare di meglio, o meno peggio. Al contrario, l'uomo per cibarsi non è costretto ad uccidere animali, poiché non ha bisogno di carne, ma tuttavia lo fa, e in certi casi, come la caccia, persino con piacere. Il termine che nella Bibbia viene ricondotto al concetto di divinità è Elohim, ma viene ricondotto in modo forzato e anzi errato. Per i teologi, Elohim rimanderebbe all'idea di Dio, così come viene inteso oggi nel Cattolicesimo. Ma in realtà, Elohim, individua personaggi simili ai teoi, greci. Quindi una divinità si può pensare attraverso le sue proprietà, con l'accortezza che tali proprietà non siano contraddittorie. Il ciò, Mauro Biglino dimostra notevoli capacità logiche. Muovendosi nell'ambito del metodo ipotetico-deduttivo, non interessa per niente, sapere quale sia la traduzione di Elohim, poiché Elohim rimane conosciuto e definito, seppur non in maniera rigorosa, da come agisce e da cosa subisce. In altre parole, Mauro Biglino adotta, non sappiamo se in modo conscio, un approccio tipico della matematica, secondo il quale, un dato concetto, assunto come primitivo, viene conosciuto attraverso gli assiomi, le proprietà, che vengono associati a quel concetto. Gli assiomi ad esso associati ne costituiscono di fatto una definizione implicita. Ho scritto, seppur non in maniera rigorosa, perché rimane sempre l'ambiguità su che cosa una proprietà, voglia dire, che cosa denoti esattamente. In ogni caso, il suo, facciamo finta che. È approvato dalla logica, e si pone nell'alveo del sillogismo ipotetico. In matematica la questione è risolta. Ad esempio, se dico che una funzione è continua. So esattamente cosa vuol dire, so cosa è la proprietà della, continuità. Ma cosa vuol dire che, X, è una divinità dell'amore. Ad esempio, Eros lo è. Ma una tale proprietà è stata attribuita anche al dio cristiano Yahweh? Yahweh? Lo sterminatore di bambini innocenti, sarebbe un dio dell'amore. Tra poco. Vedremo che Yahweh non solo non è un dio dell'amore ma non è nemmeno dio. Certamente un concetto è soggettivo e influenzato dalla società, tempo e luogo, in cui si cresce. Ciò vale in generale per una qualunque proprietà. L'essere guerra fondaio. Vendicativo, iroso, ecc. Conseguentemente la concezione del dio d'amore o del dio della guerra, o degli eserciti, cambierà a seconda della concezione che la persona ha di una data proprietà. Yahweh era un dio d'amore perché uccideva popoli, compresi bambini innocenti, per dare le loro terre alla famiglia di Giacobbe, per le chiese evangeliche nella Germania nazista. Yahweh era un dio d'amore perché aveva mandato Hitler, oggi, citando San Paolo, per delle chiese pentecostali. Yahweh sarebbe un dio d'amore perché ha mandato il pentecostale Museveni per approvare carcere. e pena di morte contro la popolazione LGBT, oggi per alcuni teologi cattolici. Yahweh sarebbe un dio d'amore perché invia terremoti quale punizione per l'approvazione della legge sulle unioni civili, sempre oggi per chiese evangeliche pentecostali. Yahweh sarebbe un dio d'amore perché, per punire i peccatori e i cattolici, mandati remoti con cui uccide anche bambini innocenti e con cui incrinale, a loro dire, idolatriche chiese cattoliche. Diciamo che, per essere buoni, questo dio d'amore quanto meno sbaglia la mira. Più che d'amore. Yahweh è un dio dell'odio. Il che porta alla conclusione che il cristianesimo non sia una religione. Il cristianesimo è tra le peggiori delle religioni. Ma chi è Yahweh? Yahweh è il nome con cui viene tradotto in italiano il nome ebraico del personaggio biblico. A capo della famiglia di Giacobbe, Israele. Nella Bibbia ebraica. Il nome Yahweh è scritto con quattro lettere che in italiano vengono rese con Y, H, W, H. Fino a un certo tempo fa, veniva usata la ilunga, al posto della Y, scrivendosi, J, H, W. H quindi una scritta, come si vede, senza vocali. E che prende il nome di tetragramma biblico. La vocalizzazione dei testi consonantici biblici, la Bibbia ebraica, è stata operata dai masoreti. Ai quali è quindi dovuta la pronuncia di Y, H, W, H. Pronuncia che in italiano è resa all'incirca con, Yahweh. Il nome che di solito oggi si trova scritto è, Y, A, H, W, E, H. L'errore commesso dalle teologie cristiane, prima. E poi dai credenti è quello di identificare Yahweh con Dio. E di credere che Yahweh sia il nome, proprio, di Dio. E vedremo il perché di quest'errore. Quindi una delle prime cose che i fedeli devono sapere è che quando dicono, Dio, o, Signore. In realtà stanno riferendosi a, Yahweh. E molti capiranno perché le teologie e le chiese nascondono questo nome. A differenza dei testimoni di Geova che sono fra i pochi ad avere il coraggio o l'incoscienza. Di ammettere che essi sono appunto seguaci di Geova Geova è la traslitterazione in italiano di Yahweh. Yahweh è un nome proprio. Yahweh è uno degli Elohim. Gli Elohim sono un gruppo di personaggi biblici potenti e ognuno di essi è messo a capo di date famiglie. O popoli! Yahweh era più debole di altri Elohim. Yahweh era Satan, rispetto ad altri Elohim. A Yahweh fu assegnata solo la famiglia di Giacobbe, Israele. Yahweh era più empio di un capo della criminalità organizzata. Se i componenti della sua famiglia non si sottomettevano ai suoi criminosi ordini. Se sgarravano anche solo raccogliendo un po' di legna di sabato. Yahweh li faceva trucidare, senza pietà. E Yahweh riservava la sua vendetta trasversale anche sui figli. Questo tanto per iniziare a chiarire l'identità o l'identikit di quei Yahweh esaltato nelle chiese. Vestemmie delle vestemmie è identificare Gesù con Yahweh. Per tanti cristiani. Gesù sarebbe il presunto Dio Yahweh. A fronte del fatto che Gesù era innetta antitesi a Yahweh. Solo che Gesù non credeva in Yahweh. E non è finita. I Vangeli fanno pensare che per Gesù. Yahweh era Satana. Per quanto detto prima. Yahweh e gli Elohim si possono pensare come concetti primitivi di cui conosciamo, attraverso, i testi, le proprietà. Yahweh e gli Elohim li conosciamo da tutto e soltanto ciò che fanno e subiscono. I testi attraverso cui conosciamo Yahweh e gli Elohim sono innanzitutto i testi biblici, ma ne parlano anche testi extrabiblici antichi. In ogni caso dobbiamo far finta che Yahweh e gli Elohim siano così definiti. Considerato che la Bibbia contiene contraddizioni. E dato che quest'approccio non traduce la Bibbia in un sistema logico. Rimane comunque un approccio utile per dedurre le conclusioni che tra poco vedremo. Comincio con una correzione. Mauro Biglino dice, io non ho scoperto nulla. Ma scoprire vuol dire innanzitutto togliere ciò che copre, scoprire è formato da esse sottrattivo. E coprire. Mauro Biglino ha scoperto ciò che per secoli è stato tenuto da cristiani subdollamente e colpevolmente. Coperto. Mauro Biglino svolge con eloquenza un lavoro tutt'altro che triviale, anzi un lavoro da tecnico. Encomiabile. Ha svelato ciò che per secoli è stato velato. Svela ciò che era, stato messo, sotto un velo coprente. Un'obiezione che alcuni religiosi muovono a Mauro Biglino è, gli Elohim filia fatti. Obiezione che denota stupidità e irrilevante per almeno due motivi. Primo. Si può dire allo stesso modo. E allora Dio chi lo ha fatto? Dato che quei religiosi partono dal presupposto che ogni esistente deve essere stato creato. Allora anche Dio deve essere stato creato. Se dicono che Dio non è stato creato. Allora hanno appena asserito che vi può essere qualche essere non creato. Ossia che non è impossibile che un essere sia non creato. Cadendo essi stessi in contraddizione. Se poi gabellano che tutto deve essere stato creato tranne Dio. Si stanno impantanando in un dogma. Privo di interesse. Dal punto di vista del valore di verità. I dogmi, per un logico, non sono interessanti. Secondo. È la Bibbia a non dire chi ha fatto gli Elohim. Constatare che gli Elohim non sono divinità, non vuol dire escludere che gli Elohim. A loro volta, siano stati fatti, non vuol dire affermare che gli Elohim. Sono un presunto punto di partenza, ammesso e non concesso che abbia un senso fisico. Altra osservazione. Quando Mauro Biglino smonta le regole grammaticali inventate ad hoc per tradurre Elohim. Con legislatore supremo, utilizza l'espressione, supponiamo che sia vero. Procedendo per reduxio ad absurdum. Do un suggerimento a Mauro Biglino. Dal punto di vista del linguaggio logico, è preferibile dire, supponiamo, per assurdo, che sia vero. Ulteriore suggerimento a Mauro Biglino. Quando avanza l'idea della possibile provenienza extraterrestre della vita sulla Terra, di cui in alcuni testi antichi potrebbero essere rimasti indizi, echi, o testimonianze. Mauro Biglino impiega il termine, ipotesi, ma è preferibile sostituirlo con, congettura. L'ipotesi è la premessa assunta come vera. La congettura è la tesi che si vuol dimostrare. Alcuni astiossi ma ridicoli detrattori di Mauro Biglino accampano l'inconsistente obiezione, secondo cui Mauro Biglino non ha titoli accademici. È come dire che Bach non è un musicista perché non diplomato al conservatorio. O che le affermazioni scientifico-matematiche di Galileo Galilei non hanno fondamento perché Galilei non era laureato in matematica. Ora, conclusa questa prima parte. Un piccolo riassunto e qualche breve citazione dal libro. Mentre di regola i teologi decontestualizzano e associano a dei termini un significato inventato e preconcetto, volto a corroborare o rinforzare le loro tesi religiose persino contrastanti col testo biblico. Mauro Biglino viceversa muove dal contesto per trarre informazioni su singoli termini il cui significato, se esaminato solo dal punto di vista linguistico, rimane oscuro. È proprio il contesto che illumina sul significato di quei termini. L'analisi del testo tramite l'analisi del contesto rende chiaro e coerente ciò che la filologia, soprattutto quando è condizionata dalle teologie, finisce per lasciare il risulto e incoerente. Scrive Biglino. Molti di quelli che si sono occupati della Bibbia e che hanno scritto la storia del popolo, di Israele, sono teologi e non storici. Pertanto i sistemi di studio tradizionale hanno portato soprattutto all'elaborazione di varie teologie, spesso in contrasto evidente e insanabile tra loro. Sull'Antico Testamento si basano tre grandi religioni, ebraismo, cristianesimo e islam, ognuna delle quali rimprovera le altre di essere false. Divise al loro interno in tante altre diverse religioni che da sempre hanno lottato per annientarsi. A vicenda, in contraddizione le une con le altre. L'Antico Testamento è un insieme di libri tra i più riscritti, manipolati, interpolati, alterati, cancellati, eliminati e poi ufficialmente ritrovati in tutta la storia dell'umanità. E l'incertezza va ben oltre. Il risultato è che ci sono due Bibbie diverse. Gli evangelici hanno una Bibbia di 66 libri, mentre la Chiesa Cattolica ha una Bibbia di 73 libri. Qual è quella falsa? Tutte due. Le due Bibbie contengono bugie, come la falsa profezia della Vergine Partorira. E gli ebrei sanno che il Nuovo Testamento è un mucchio di libri disomogenei discordanti incoerenti. E blasfemi che sono stati aggiunti alla Bibbia ebraica. L'Elohim di Israele vuole essere ricordato col nome di Yahweh. E biglino nota. Abbiamo quindi un presunto Dio che indica il modo in cui deve essere ricordato nel tempo. E una Chiesa, la, presunta, sua Chiesa, che invece assume la decisione contraria. La traduzione tradizionale di Yahweh con, il Signore, o, l'Eterno, non ha alcun affondamento, linguistico e contestuale. Si tratta di indicazioni esclusivamente teologiche finalizzate a invertire la logica stessa, del pensiero. La confutazione della teologia cristiana la fornisce la Bibbia stessa. In Giudici 11, Yahweh accetta che la figlia di Iefte gli sia sacrificata. Non solo. Dio viene comprato facilmente, ma è di una malvagità assoluta il tipo di scambio. Aiuto in guerra, a fronte del sacrificio, atroce, di un innocente. L'assassinio crudele compiuto come offerta con cui ingraziarsi il Dio cristiano. Al fine di uccidere altri. Iefte brucia la sua stessa figlia. E Yahweh non fiata ma accetta. Nella Bibbia, Yahweh stesso richiedeva sacrifici umani. Stante la paura di Yahweh di essere abbandonato. Oggi si riscontra lo stesso terrore nelle sette cristiane, evangeliche, pentecostali, trinitariane, unitariane, eccetera, eccetera, di perdere pecore. Sette alle quali oggi non rimane che perpetrare minacce, terrene e ultraterrene. Gli ordini di uccidere impartiti da Yahweh richiamano il modus operandi tipico delle sette, più chiuse e pericolose, di cui abbiamo numerosi esempi ancora oggi. Deuteronomio 13. Biglino osserva. Il monoteismo non aveva casa in quel mondo, e Yahweh lo sapeva bene. Non a caso si definiva continuamente geloso e minacciava di morte chiunque lo tradisse. Era, insomma, debole. Oltre al terrore e alle minacce. Non aveva altri strumenti per convincere e imporre la sua presenza. E sapeva bene di poter essere abbandonato in qualunque momento a favore di altri Elohim. Un agnello dovrà essere ucciso al mattino e l'altro alla sera. Scrive Biglino. Più di 700 giovani agnelli all'anno. Non si può certo dire che Yahweh avesse rispetto per la vita animale. Dato che lo scopo di quel vero e proprio massacro era la produzione di fumo da annusare. Appena finito il presunto diluvio, come primo atto, Noè offre un olocausto. Se aveva fatto tanta fatica per salvare gli animali da morte sicura. Dove prende gli esemplari da bruciare? La scienza prima o poi ci aiuterà a comprendere. Mentre il dogmatismo teologico è fermo da secoli nella sua impossibilità di conciliare la fede con il testo biblico. Biglino annota. Da parte loro, i paleoantropologici dicono che il sapienza si sviluppa e si presenta sulla scena con una rapidità evolutiva inspiegabile. Da decenni si sta conducendo una lotta senza esclusione di colpi tra creazionisti. Fedeli a certa tradizione dogmatica religiosa. E seguaci altrettanto irremovibili delle teorie darwiniste. I creazionisti. Ad esempio, non possono spiegare l'evidente, avanzatissima, età dell'universo. Mentre gli evoluzionisti non possiedono il cosiddetto, anello mancante. Forse l'anello mancante. È proprio questo. L'intervento genetico di esseri intelligenti. Questa la congettura di Mauro Biglino. Le iniziative creazioniste americane contestano la teoria di Darwin, e chiedono. Tramite azioni in tribunale. Superiore legittimità per la tesi creazionista durante le lezioni di scienze nelle scuole. Gli esponenti dell'evoluzionismo rispondono che il creazionismo non è una teoria scientifica. Ma è basato su una credenza religiosa. E il suo insegnamento andrebbe quindi contro il principio della separazione tra Chiesa e Stato. Di norma, viene privilegiato l'obiettivo di denigrare l'avversario. Relegando l'attendibilità delle informazioni a livello di optional. Essi credono ciecamente alla loro versione. La psicologia ci spiega che ritenere di conoscere la verità sulla base delle proprie credenze. È un comportamento del tutto legato all'irrazionalità. In poche parole. Più le persone vengono sottoposte a informazioni che contraddicono le loro credenze più radicate. Più trovano, a ogni costo irrazionalmente, argomenti per sostenerle. Le credenze che ci vengono scritte in memoria quando siamo bambini piccoli. Risulteranno pressoché indelebili per tutto il resto della vita. Le credenze religiose e scientifiche assorbite da bambini a casa, in chiesa, e a scuola. Determinano gran parte dei nostri comportamenti. Gli studiosi hanno prodotto tonnellate di letteratura scientifica dimostrando oltre ogni dubbio che noi esseri umani deriviamo dagli scimpanzi africani, si va di bene che usiamo il termine deriviamo, e non la locuzione, ci siamo evoluti. Ma l'enorme varietà morfologica dei vari ceppi di ominidi è difficilmente spiegabile e viene poco considerata. Come finale. Un estratto da, i geni manipolati di Adamo, del dottor Pietro Buffa. Biologo molecolare che svolge ricerca nel settore della genomica e dell'analisi computer assistita di biosequenze, vincitore del premio internazionale Marie Curie. Ricercatore associato del Kings College di Londra. Ha condotto studi in ambito oncologico molecolare. Saggista e autore di svariate pubblicazioni scientifiche. La scienza ufficiale Sembra arrocata nell'ambito dei concetti proposti dal neodaruinismo. Homo sapiens appare come entità anatomicamente definita circa 200.000 anni fa. Ma egli non è il risultato di un processo prolungato di evoluzione né tanto meno di un percorso graduale, di adattamento. Anzi, in alcuni momenti della sua storia biologica si intravedono segnali di un finalismo che va, oltre ogni necessità di adattamento ambientale, attraverso un balzo qualitativo che non ha precedenti nella storia. I primi Homo sapiens si presentano sulla scena dotati di un cervello moderno. Analogo a quello attuale. Alexander Röfe, in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto chiaramente, nel momento in cui il nuovo sacerdozio, diciamo così, di Gerusalemme, al rientro dall'esilio babilonese, ha preso il potere e si è autodichiarato l'unico intermediario tra il popolo è questo Yahweh, perché il lavoro più grande che hanno fatto è stato quello di eliminare, cioè eliminare tutto ciò che non era funzionale alla ideologia e alla teologia che loro hanno veicolato verso il popolo. L'inganno delle caste sacerdotali è un inganno che dura da secoli e quindi dice appunto questo esperto di Bibbia che lì hanno cominciato a eliminare, hanno ridotto i libri, li hanno accorciati, diceva per esempio il libro di Geremia che è stato accorciato di almeno il 30%, spesso, siccome non se la sentivano proprio di fare scomparire definitivamente, cioè di bruciare i libri, i codici antichi, perché comunque erano stati scritti dai loro padri, allora spesso si limitavano a sotterrarli, cioè a nasconderli. In modo che non fossero più disponibili. Sono stati trovati i rotoli di Qumram, di cui si parla da qualche decennio. Tra questi c'è anche il libro di Isaia. Tra la versione di Qumram del libro di Isaia e la versione masoretica del libro di Isaia ci sono quasi 300 varianti. Quello che si capisce è che chiunque, qualunque gruppo, avesse in mano un codice biblico ci inseriva ciò che a quel gruppo interessava inserire. Quindi non abbiamo nessuna certezza su nulla. Allora perché uno si chiede studiare la Bibbia? Perché sulla Bibbia sono fondate tre religioni. Perché dalla Bibbia, direttamente o indirettamente, dipendono le scelte di vita di alcuni miliardi di persone. Mosè gli pone alcune domande. Intanto gli dice chi sei tu, cioè come ti chiami. E questa ovviamente è una domanda che non si fa al Dio trascendente, unico, spirituale, perché di per sé sarebbe di per sé stupida, oltre che offensiva. Ma Mosè la fa tranquillamente, perché Mosè sapeva bene che questo non era il Dio unico, trascendente, spirituale. Tant'è che spesso si dice il Mosè, Mosè ha fondato il monoteismo, ma Mosè non è mai stato monoteista. Mosè non ha mai definito questo qui un Dio, tantomeno il Dio unico. Lui sapeva che era uno dei tanti, cioè uno dei tanti Elohim, ai quali ci si poteva rivolgere. Mosè gli chiede innanzitutto come ti chiami. E lui gli dà quella famosa risposta che nei secoli ha dato corso a un sacco di discussioni e a tutte le traduzioni possibili, cioè gli dice Io sono quello che sono, io sarò quel che sarò, io ero quel che ero, io sarò quel che ero. Poi dice lui mi ricorderete con questo nome e pronuncia quel famoso tetragramma che viene vocalizzato nella Bibbia sia come Yahweh che come Yehua. Dopodiché Mosè gli chiede un'altra cosa. Gli chiede anche che di fargli vedere lo strumento che rappresenterà per lui, per Mosè, la garanzia che questo Yahweh è veramente in grado di mantenere la promessa, di portarli alla conquista della famosa terra di Canaan, conosciuta appunto come terra promessa. E gli dice quindi io ho bisogno di capire che tu sei veramente in grado di mantenere le tue promesse e quindi devo vedere la tua gloria. Io mantengo qui la traduzione tradizionale, quella che troviamo in tutte le Bibbie. Quindi diciamo per questa volta non la cambio, lascio gloria. Yahweh gli dice va bene, cioè in sostanza Yahweh capisce l'esigenza di Mosè, quindi non si offende per questa richiesta di una prova, pensate al Dio trascendente universale, che viene messo alla prova da un omuncolo qualunque. Ebbene, non era così e quindi Yahweh capisce bene l'esigenza di Mosè e in sostanza gli dice va bene, ti faccio vedere la mia gloria. Dice però se ti faccio vedere la mia gloria sappi che se passo vicino a te con la mia gloria e se tu vedi la mia gloria di fronte tu muori. Però se tu ti nascondi dietro delle rocce e la mia gloria invece di guardarla da davanti, dopo che è passata la guardi di dietro, non muori. Capiamo che la gloria di Dio è un qualcosa che si muove da un punto ad un altro, quando si muove non le si può stare di fronte, se ci si trova di fronte si muore, Dio, diciamo Yahweh, non è in grado di controllare o di prevenire gli effetti di questa sua gloria, se però ci si nasconde dietro delle rocce, le rocce sono in grado di fare ciò che Dio non è in grado di fare. Da questo passo apprendiamo che la gloria di Dio non è un qualcosa che accompagna Dio in tutte le sue manifestazioni, ma è una manifestazione che va programmata, tant'è che gli dice te la faccio vedere domani mattina. Il popolo vede e sente cose terribili sulla montagna, cioè vede una grande nube, sente rumori come di grandi acque, rumore come di forte tuono, quindi l'altro elemento che dobbiamo aggiungere alla gloria di Dio è che fa rumore quando passa. Questo è ciò che c'è scritto nelle Bibbie, poi io nei miei libri entro nel merito delle traduzioni particolari del termine kavod, che nella Bibbia è soprattutto scritto con la vocalizzazione kevod, che è la vocalizzazione del genitivo, quello che si chiama in ebraico lo stato costrutto. Quindi questo kavod produce quegli effetti. Innanzitutto Bellino, mi sembra evidente dalla sua storia che leggo che lei non sia uno dei soliti propagatori delle teorie sugli UFO, lei è uno studioso della Bibbia. Sì esatto, diciamo il discorso degli UFO semmai è un discorso assolutamente marginale, nel senso che non me ne importa nulla. Cioè se la Bibbia è Pinocchio, io racconto Pinocchio. Tant'è che alle volte, no, alle volte, mi vengono fatte dire, no, tutta una serie di cose, ma poi accusare quelle. Ah ma perché lui dice che, no, io non dico che, io dico che quel libro dice che, non io. Se quello che dice quel libro è una favola, io racconto quella favola. che l'Antico Testamento nel testo masoretico, scritto da ebrei, studiato dal professor Menachem Cohen, docente all'Università Barillan di Tel Aviv, ci sono 1800 errori che lui ha descritto in 21 volumi. Sui 1800 errori commessi dai redattori masoreti, neanche una parola. C'è qualcosa che non... Almeno leggiamo ciò che scrive, perché altrimenti veramente viaggiamo nel mondo di Biancaneve e i Settenani. Cosa peraltro possibile? Perché la Bibbia, di sicuro, come è documentato dall'archeologia israeliana, ci ha raccontato un sacco di balle. Per esempio, una cosa che facevano era raggiungere delle profezie a evento avvenuto. Sapete che a un certo punto i babilonesi arrivano a prendersi Gerusalemme. Nel libro di Geremia questa vicenda è inserita come se fosse una profezia. In realtà, se voi leggete gli studi dei docenti biblisti israeliani che insegnano nelle università giudaiche in Israele, scrivono che questo è un inserimento fatto post eventum. Cioè, dopo che la cosa è avvenuta, nel libro di Geremia hanno inserito che Gerusalemme sarebbe stata presa cercando di far credere che fosse una profezia. Ma l'hanno scritta dopo. E tutte le profezie bibliche sono tutte profezie post eventum. Allora, quando voi leggete le Bibbie che avete in casa e trovate la parola Dio, voi toglietela e ci mettete ciò che c'è scritto in ebraico. Diciamo nel 99% dei casi. Elohim. Va bene? Non chiedetevi cosa vuol dire. Poi vediamo le indicazioni che ci danno gli esegeti giudaico-cristiani. Non chiedetevi che cosa vuol dire perché tanto non ha nessuna importanza. Fate conto che sia il nome proprio di... Quando voi trovate Altissimo lo togliete e ci mettete Elion che è il termine ebraico che c'è tutte le volte che in italiano trovate Altissimo. Quando trovate Signore o Eterno voi ci mettete Yahweh che è il termine ebraico che c'è tutte le volte che voi trovate questi due qui. Ok? Allora è chiaro che se voi nelle Bibbie leggete, no? Come succede? Dio l'Altissimo, il Signore l'Eterno, Dio ha detto, il Signore ha detto, l'Altissimo ha fatto. E' sempre Lui, ovviamente. Cominciate a leggerla così e comincerete a capire che non è vero che è sempre Lui. Che si parla di individui ben diversi. Cominciate a leggerla così e lo capirete. Così come pure quando trovate il termine Gloria voi lo togliete e ci mettete Kavod e quando trovate Spirito voi lo togliete e ci mettete Ruach. non chiedetevi cosa vuol dire. Leggete soltanto, basta così, eh? Leggete soltanto attentamente ciò che ogni volta il contesto vi dice di queste robe qui. Non chiedetevi cosa vuol dire. Perché nel momento in cui grazie nel momento in cui vi chiedete cosa vuol dire e provate a dare una traduzione entrate nel tunnel delle interpretazioni. E siccome interpretare significa in genere tradire il testo noi rispettiamo gli autori ebrei e nessuno può dirci nulla. nessuno può dirci nulla. Lettura più rispettosa di questa non ci può essere. Ma così comincerete a capire. Quando si parla e vi faccio vedere questa roba qui è recentissima di Kavod che viene tradotto con Gloria qui e questo è uno dei termini su cui vengo diciamo non vengo si tenta di massacrarmi senza riuscirci. perché dico che Kavod si riferisce ad un qualcosa che ho detto prima significa pesante ad un qualcosa di molto concreto molto concreto. Quando viene tradotto con Gloria che è il termine che trovate sempre nelle Bibbie che avete in casa voi se avrete voglia di leggere la Bibbia come spero vedrete per esempio che se ne parla nell'Esodo quando Mosè dice a Yahweh io devo vedere il tuo Kavod ed è io devo vedere la tua gloria. Se la gloria di Dio allora noi prendiamo atto del fatto che Dio va in giro senza la sua gloria cioè chi guarda siccome Mosè guardava in faccia a Yahweh lo vedeva e non vedeva la gloria tant'è che per vederla gliela deve chiedere e voi troverete scritto la mia gloria per vederla tienti pronto domani mattina cioè come dire stamattina sono uscito senza gloria domani mattina te la faccio vedere è così cioè io lo so chi viene da ridere poi dice Biglino no io non prendo in giro ma porca miseria se Mosè guarda Yahweh gli dice fammi vedere la tua gloria e gli dice te la faccio vedere domani mattina che cos'altro possiamo pensare non si tratta di essere irreverente si tratta di avere buon senso rispetto a un testo allora però attenzione se quando io passo con la mia gloria passo passo tu la guardi da davanti tu crepi e lui non può farci niente cioè il padrone della gloria non può farci niente dice però se quando io passo tu ti metti dietro queste pietre non muori e la guardi di dietro dopo che è passata quindi la gloria è una roba che Dio non ha sempre con sé se volete vederla gliela dovete chiedere lui vi dice quando ve la fa vedere vi dice però attenzione quando io passo con la mia gloria tu nasconditi e guardala di dietro altrimenti crepi e io non posso controllarla le pietre le pietre le pietre invece sì ma questo lo trovate nel libro dell'esodo che avete in casa non nelle mie traduzioni arrivo e adesso poi andiamo a vedere che cosa si dice in Ezechiele per questo vi dico non traducetela perché quelli che lo traducono con gloria poi devono spiegare questa assurdità e devono inventare di tutto inventare di tutto per spiegare questa assurdità allora noi non cadiamo nella trappola non discutiamo cavot cosa vuol dire e chi lo sa cosa vuol dire non lo so non mi interessa so che il cavot fa quella roba lì questo è il dizionario del dizionario dell'antico ebraico che è redatto dal fondatore del centro studi sull'antico ebraico il dottor Jeff Banner un dizionario pubblicato negli Stati Uniti io sapevo che c'era quest'anno me lo sono fatto regalare per Natale il termine cavot c'è una frasetta qui in inglese chi la vuole come no no per 10 euro lego solo la prima facciamo 15 che cosa significa leggila e poi traducila letteralmente il concreto e originale significato di cavot è armamenti da battaglia bravo bravo dottor Jeff Banner che è il ha redato si è un dizionario ha redato dal fondatore del centro ricerche sull'antico ebraico questa è la fotocopia della pagina io sono sei anni che lo dico sono sei anni che vengo massacrato perché dico questo almeno diciamo se io sono un asino patentato siamo in due io io e il fondatore del centro studi sull'antico ebraico ecco se qualcuno ha insomma uno di quegli aggeggi per collegarsi a internet scrivete cavot custom punto com scrivetelo con la k cavot custom punto com ce l'avete cavot potete far vedere una fabbrica di armi e il logo cioè quelle lettere ebraiche lì sono le lettere ebraiche bibliche non non del dell'ebraico moderno eh cioè il logo cavot è scritto cavot biblico e fanno quella roba lì ah sì ok è sono azionista lì e se no perché dovrei fare pubblicità a quell'azienda lì sono azionista la moda della bibbia è quello che è più simile all'imana dei test indiani